Con Giovanni Francini, ex giocatore del Napoli, parliamo della squadra partenopea, partendo proprio da Benitez, ti convince la scelta fatta da De Laurentiis per l'allenatore? Molto, comunque è un grandissimo allenatore, ha vinto molto in Europa, conosce bene il calcio internazionale, quindi De Laurentiis è stato bravo anche a prenderlo subito dopo la partenza di Mazzarri, che l'ha subito preso, quindi ha fatto secondo me molto bene e secondo me è anche una garanzia a Benitez, perché essendo comunque un grande allenatore avrà sicuramente avuto delle rassicurazioni sulla squadra per il prossimo anno, quindi penso che il Napoli farà una grande squadra. Questa telenovela Cavani che inizia a stancare un po' tutti, cosa ne pensi? Onestamente non ci si capisce tanto, perché chi dice che vuole arrestare, chi dice che invece vuole andare via, io penso che se arriva una squadra che porta i soldi che vuole il Presidente sicuramente sarà ceduto, altrimenti rimarrà il Napoli. Però comunque tenere un giocatore contro voglia, bisogna capire bene le intenzioni anche sue, quali sono, se rimane volentieri o se vuole andare via, perché se rimane malvolentieri tenere un giocatore contro voglia comunque è sempre controproducente. Te lo immagini comunque alla fine con la maglia del Real Madrid e Cavani o no? Io spererei di vederlo ancora con la maglia del Napoli, perché comunque non è facile trovare un giocatore che possa sostituirlo. Un giocatore che gioca tutto campo, segna moltissimo, è in difesa, centrocampo in attacco, quindi difficilmente sarà difficile trovare un giocatore con queste caratteristiche. Di quello che riguarda sempre l'attacco, ti immagini che il prossimo anno in signe possa avere più spazio anche alla luce di quello che ha fatto nella stagione scorsa, il nazionale del 21? Ma lo spero, arriva un allenatore che comunque i giovani li fa giocare, se sono bravi li fa giocare, ma Zari forse con i giovani un po' meno. Quindi se continuerà a mantenere queste promesse viste sia l'anno scorso che anche con l'Under 21, io penso che potrà trovare sicuramente posto nella formazione titolare. Capitolo portiere, continueresti a puntare su De Sanctis oppure è giusto cambiare, è giusto puntare su un giovane come Rafael del Santos? Mai, comunque lo terrei, De Sanctis perché comunque ha fatto bene, ha avuto un momentino quest'anno, dopo ha preso gol con la Fiorentina, da lì è stato un po' indeciso, però comunque è sempre un portiere di ottimo affidamento. Però sicuramente ci vorrà dietro un altro portiere perché comunque Rosati l'anno scorso nelle partite che ha giocato è sembrato molto insicuro, quindi sicuramente Rafael se la giocheranno penso loro due, però De Sanctis se lo terrei. Capitolo invece difesa, dopo la partenza di Campagnaro ti aspetti qualche innesto veramente importante? Ma sicuramente, intanto speriamo che oltre a Campagnaro non vada via qualche altro giocatore che sento, ci sono diversi giocatori che Mazzari vorrebbe all'Inter, che appunto li ha avuti per diversi anni, li conosce bene quindi vorrebbe portarli all'Inter. Sicuramente comunque ci vogliono degli innesti perché comunque oltre al campionato ci sarà la Champions League e ci sono due competizioni molto importanti, quindi deve avere una rosa altrettanto importante per poter fare bene sia da una parte che dall'altra. Due parole anche sul Torino, un'altra tua ex squadra, Ogbonna dovrebbe andare alla Juventus, una perdita significativa per i Granata? Sicuramente, secondo me è un grandissimo difensore, quindi dispiace poi che dal Torino passare alla Juventus per i tifosi è una cosa molto incredibile, quindi oltre a essere una perdita perché è un bravo giocatore, anche vederlo poi vestire la maglia della Juve è una doppia pugnalata per i tifosi. Cerci invece è destinato a non essere riscattato da parte del Torino? Sembrerebbe di no, sembrerebbe che ci sia anche Napoli in pole position per portarlo sotto il Vesuvio, quindi anche questo sarebbe un bel colpo perché comunque quest'anno ha fatto veramente delle cose molto importanti e arrivare a Napoli potrebbe essere una crescita anche per lui, avrebbe la possibilità comunque di giocare in campo internazionale e essere rilanciato definitivamente. Grazie Grazie